è questo che ho sempre sognato da bambino io vedevo Pavarotti in televisione da bambino e mi emozionavo e quindi ho detto questa è la mia strada fabbrica ti permette di diventare un professionista parlo per me io sono arrivato qui con tanti sogni grazie a fabbrica lentamente questi sogni si stanno avverando fabbrica è come il ponte qui la scuola qui lavoro lavoro la mia una gamba è qui in scuola e seconda gamba è qui in lavoro e questo ponte e fabbrica nella formazione di un musicista diciamo c'è un tempo per il conservatorio per l'accademia per le lezioni e dopo l'ultima parte della formazione e sul palco e facendo il mestiere si impara si impara lì e quella è la cosa più difficile da trovare perché altre istituzioni formative non ti danno quella opportunità si fa qualcosa ma l'opportunità di andare sul palco con persone di esperienza e fare le cose sul serio e quella è la cosa difficile da da trovare abbiamo l'occasione di lavorare con moltissime persone facciamo tantissime masterclass e questi sono feedback che comunque ci arrivano e ci permettono di fare una crescita inoltre all'interno del gruppo abbiamo il gruppo regia e pianisti ed è uno scambio continuo di idee di vedute e quindi questo ci permette di ampliare un po' con il nostro piccolo mondo di cantanti è un potremmo chiamarlo un training on the job ci mette subito nella condizione di lavorare come professionisti in formazione e quindi ci butta immediatamente nelle situazioni più estreme in palcoscenico e ci fa subito collaborare con grandi professionisti noi abbiamo avuto la fortuna di partecipare alla stagione estiva dell'opera di roma firmando il progetto visivo di uno dei concerti quindi credo un'esperienza che forse nessun altro di fuori di fabbrica riuscirebbe a fare così all'inizio di una carriera è l'anello mancante tra il mondo dello studio e il mondo del lavoro ma dopo? si bocca al lupo si vediamo subito grazie ciao permesso in bocca al lupo avanti c'è posto come state? va bene? va bene lui italiano io vengo dall'altra parte del mondo e abbiamo questo dovuto oggi qua in questo progetto quindi un regalo però dobbiamo dobbiamo goderci questo anche questa musica e soprattutto approfittare questa opportunità del gruppo umano che siamo noi bocca al lupo eh crepi ciao ci vediamo grazie grazie Grazie. Grazie. Grazie.